Presentata a Martinsicuro la lista è i candidati di Alternativa per l'Italia, sigla nata dall'Associazione di Forze Laiche e Cattoliche, riunite dalla leadership di Mario Adinolfi, Popolo della Famiglia, e Simone Di Stefano, Exit. Una proposta alternativa per l'Italia per fronteggiare i problemi legati alle questioni economiche, antropologiche e di politica internazionale, per porre al centro dell'associazione politica i valori non negoziabili della vita e della famiglia. Il nostro programma è veramente ben definito anche perché servono pochi punti, le persone ormai parlano, parlano per ore, noi abbiamo cinque punti, non ve li sto neanche ad elencare perché è facile reperire. Noi non vogliamo più il Green Pass, l'imposizione del Green Pass e di tutte le costrizioni che abbiamo vissuto in questi due anni sono vergognose. Questa è la linea di Apli, Apli è una federazione tra Popolo della Famiglia, di cui io faccio parte da sei anni ormai, e i nostri cavalli di battaglia sono alla fine sempre gli stessi, anche perché la prossima, lo dico a tutti i cristiani, quelli che si professano davvero cristiani, che siano conseguenti con la loro professione di fede. La prossima sarà la legislatura dell'utero in affitto, dell'eutanasia e questo noi non lo possiamo permettere. Noi che ci professiamo cristiani sappiamo che domenica 25 settembre, usciti dalle chiese, dalle nostre professioni di fede, dobbiamo andare a votare e abbiamo un solo partito da votare, alternativa per l'Italia. Numerose le donne presenti in lista, tanti gli under 50 e tutti, a parte Adinolfi, rigorosamente esordienti della politica. Tutti coloro che pensano che adesso sia tempo per un'alternativa non generica, non grillina, non quella roba tipo 5 Stelle, ma un'alternativa valoriale, che grida forte, mai più Green Pass, mai più violazioni dei diritti costituzionali fondamentali dei cittadini abruzzesi ed italiani, mai più una cancellazione del ruolo fondamentale dei lavoratori e delle famiglie, magari prendendo operatori sociosanitari, medici e vietando loro, come avviene ancora oggi, di lavorare perché non vaccinati. Beh, davanti a questo tipo di programma io sono convinto che oggi presentandoci a Martinsicuro, presentandoci ufficialmente davanti alla regione Abruzzo, noi abbiamo le condizioni concrete per rappresentare quella pietra d'inciampo, per essere quello scandalo abruzzese, che è uno scandalo cristiano, che è uno scandalo che sa far rimbalzare i cuori perché evoca verità.